buongiorno eccoci qua sono le sei e venti siamo partiti per la settima tappa del nostro cammino verso santiago oggi arriveremo fino a padron qualche chilometro in meno di ieri diciotto quindi impiegheremo un'oretta di meno rispetto a ieri c'è un pochino più di salita però nulla di preoccupante cielo bellissimo tempo perfetto fa fresco come ieri ieri finché non è sorto il sole abbiamo avuto un po di freddo ma poi si stava bene quindi buona giornata a tutti ciao buongiorno eccoci arrivati finalmente a padron il convento dei carme c'è aspetta eccola sullo sfondo stiamo attraversando la porta santiago arriveremo tra poco dove dormiremo quest'ultima al termine di quest'ultima tappa prima di arrivare santiago quindi ci siamo quasi vero ragazzi siete contenti di essere quasi arrivati e vai ciao buongiorno eccoci qua ecco il nostro giaciglio per questa notte siamo arrivati siamo arrivati nell'alberghe che ci spiegherà si vede che l'alberghe più economico di questa settimana però siamo molto felici saluto che salutone ciao ciao buona sera eccoci qua finalmente a cena a padron dopo aver celebrato la messa nella chiesa dei carmelitani di padron ora ci aspetta un ottimo menù galiziano alliettati dalle musiche delle musiche degli altri pellegrini di stagoli che sono qui salutati a tavolo con noi sono tutti gli altri pellegrini di milano ciao 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 Il tuo nome sarà il nome di ogni città, di un gattino affabbiato che mi adorerà. Il tuo nome sarà un cartellone che fa della pubblicità, sulla strada ben verbo. Io con il naso in di su, la testa ci sbatterò, sempre là, sempre tu. Ancora un'agro poi, ancora un'agro poi, e poi, ora no, e tu chiamerò, trottolino amore. Camminerò, camminerò, sulla tua strada signore, signore, dammi la mano, voglio restare per sempre. Quando ero solo, solo e stanco nel mondo, quando non c'era l'amore, tante persone vivono intorno a me. Sentivo cantare così, camminerò. A presto. 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 A presto.